La difesa gioca d'anticipo. Il DNA estrapolato da Ristici e l'avvocato in suo bel vedere non è di Franco Sansone. Il legale del pastore di Cerisano, principale imputato al processo per l'omicidio di Roberto Lanzino, nel corso dell'ultima udienza ha anticipato il contenuto di una perizia di parte sul DNA isolato dai carabinieri di Ristici Messina su un campione di liquido seminale. L'analisi del DNA è stata condensata in una perizia di oltre 60 pagine e depositata dalla procura al procedimento in corso davanti alla corte assise di Cosenza. Ora si attende la comparazione del codice genetico di Sansone, dopo aver prelevato un campione di saliva dell'imputato, con quello repertato e isolato dal RIS nel terriccio del luogo del delitto. Le operazioni tecniche interesseranno anche i parenti diretti di Luigi Carbone, scomparso da tempo, che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe partecipato al delitto assieme a Sansone. Gli analisti del RIS, nel corso dell'udienza, hanno espresso evidenti perplessità riserve sulla conduzione delle indagini nella prima parte dell'inchiesta. Per l'omicidio alla ragazza, avvenuta nell'estate del 1988, sono sotto processo i tre pastori di Cerisano, Alfredo, Franco e Remo Sansone. Franco risponde alla violenza sessuale dell'omicidio insieme allo scomparso Luigi Carbone. Gli altri Sansone avrebbero poi fatti sparire il corpo di Roberto Lanzino e quindi lo stesso Carbone è divenuto, sempre secondo l'accusa, un testimone scomodo.